Tra poco meno di 15 giorni il piano strutturale di Sansepolcro vedrà lo scadere del termine di presentazione delle osservazioni che cittadini singoli, associazioni di categoria economica, associazioni culturali e sociali, sindacati, partiti politici, enti territoriali superiori possono avanzare in vista di una maggiore condivisione dello strumento urbanistico adottato dall'amministrazione comunale nello scorso mese di aprile e che dopo questa fase, quella immediatamente successiva della discussione e votazione delle stesse della comunicazione e delle contradduzioni alle osservazioni da parte dell'amministrazione comunale il piano verrà sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale. Se anche nella cittadina pierfrancescana le ultime settimane sono state caratterizzate dagli appelli elettorali per la tornata europea amministrativa, quest'ultima peraltro tuttora in corso per il baldottaggio per l'elezione della Presidenza della provincia di Arezzo che domenica prossima vedrà tornare alle urne anche i cittadini di Sansepolcro oltre a lunedì successivo per quel che riguarda il referendum, tuttavia questi ultimi giorni si sono caratterizzati anche per altri ripetuti appelli e richieste proprio in merito al piano strutturale. L'attenzione del mondo politico sull'importante strumento oggettivamente ha risentito degli impegni elettorali per cui alcuni consiglieri comunali come ad esempio il consigliere Antonio Segreti dell'Ulivo ma ancora la lista civica Viva Sansepolcro attraverso il suo capogruppo Mauro Graziotti hanno avanzato formale richiesta di prolungamento di altri 15 giorni almeno per la presentazione delle osservazioni richiesta indirizzata all'amministrazione comunale, nello specifico al sindaco Polcri, l'assessore all'urbanistica e innocenti. In questo senso poi il capogruppo dei civici Graziotti si è impegnato anche a garantire il numero legale per la validità delle sedute consigliari qualora si rendesse necessario dal momento che l'amministrazione Polcri la vicenda è nota si regge con un solo consigliere di maggioranza di centrodestra in più rispetto a ben quattro gruppi consigliari di opposizione. Ma in realtà questa necessità di prolungamento della fase delle osservazioni è stata esplicitata anche da altre realtà della comunità cittadina dal mondo delle categorie economiche, artigiani e industriali ad esempio nel corso di un incontro con gli attuali amministratori di Palazzo delle Laudi nonché in modo formale anche dal circolo di cultura politica e amministrativa della Valtiverina realtà che comprende esponenti politici e vecchi amministratori di diversi orientamenti politici indistintamente. L'amministrazione comunale su questo non si è ancora espressa dunque vedremo nei prossimi giorni che Piega prenderà l'evoluzione degli eventi attorno ad uno strumento è il caso di ricordarlo che dovrebbe regolare lo sviluppo della città per almeno i prossimi vent'anni.